8 marzo 1918. Si registra il primo caso di influenza spagnola, la più grave forma di pandemia della storia dell'umanità. Tra il 1918 e il 1919 uccide 50 milioni di persone nel mondo più di quanto ne abbia uccisi la grande guerra. All'influenza viene dato il nome di spagnola perché la sua esistenza è inizialmente riportata soltanto dai giornali spagnoli, gli unici allora non sottoposti a censura.